Nessun dubbio sulla natura dolosa dell'incendio ha piccato ieri sera a Margherita di Savoia nel cantiere dove sono in corso i lavori di costruzione di un polo scolastico dell'infanzia. Le telecamere di videosorveglianza interne hanno immortalato una persona incappucciata a scavalcare il recinto e raggiungere il piano sopraelevato della struttura per dare fuoco a del liquido infiammabile. L'incendio ha annerito alcuni pilastri e distrutto i materiali depositati nel cantiere, un carico di polistirolo e diverse tubazioni per un valore di circa 20.000 euro. Questa mattina la scientifica ha effettuato un sopralluogo e operato i primi rilievi alla ricerca di impronte e tracce biologiche. Non è la prima volta che il cantiere dove dal maggio dello scorso anno vanno avanti i lavori per la costruzione di un asilo nido e una scuola dell'infanzia, finanziati con oltre 2 milioni di euro dalla regione, viene danneggiato da un atto incendiario. Poche settimane prima era stato appiccato un altro rogo di dimensioni più contenute e anche in quel caso le telecamere hanno registrato la presenza di una persona col volto travisato che si introduceva nel cantiere. Dall'impresa che sta realizzando i lavori, la Cobar di Altamura, fanno sapere di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva. Ora una parte della struttura dovrà essere sottoposta a verifiche statiche per accertare che l'incendio non abbia provocato ulteriori danni. Probabile che possa slittare di qualche settimana la conclusione dei lavori prevista a fine maggio. Un disagio soprattutto per le tante famiglie del quartiere Sampio che attendono da anni una struttura scolastica che accolga i loro bambini. Siamo preoccupati per l'ennesimo atto intimidatorio che si verifica in città, dichiara il sindaco lo disputo, ma i lavori non si fermeranno. È assurdo fare degli atti vandalici a un polo di infanzia dei bambini, una scuola per bambini, non lo so. Io mi auguro che quando prima le indagini porti a scoprire questi signori che si divertono, diciamo si divertono a fare questi atti. È successo anche due o tre settimane fa, non solo per lo stesso polo di infanzia, ma anche in un altro posto dove stanno realizzando un centro commerciale, hanno incendiato una pala meccanica. Dico solamente che nella BAT c'è l'esigenza di un aumento delle forze dell'ordine, apprezzabilissimo quello che già fanno le forze dell'ordine, ancorché sotto organico, però è necessario cambiare, avere un sostegno più forte dal punto di vista della presenza, come attività investigativa, perché noi nell'attività amministrativa che facciamo le difficoltà sono enormi. È la cosa che più dispiace che la gente si aspetta la realizzazione di questa scuola, la faremo certamente, non ci intimidisce assolutamente questi atti che vengono fatti, però alla fine, dall'altra parte chiediamo anche noi una maggiore tutela come territorio dell'intera BAT e questo lo dico come Presidente della Provincia. Grazie.